ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture saluto tutti quanti anime con tanto tanto affetto soprattutto quelli che mi seguono veramente da tanto grazie mille a tutti quanti anche a quelli in privato che fanno i percorsi con me grazie 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 veramente di cuore saluto anche con altrettanto affetto i nuovi chi si trova qui ad ascoltarmi per la prima volta benvenuta o benvenuto fai l'iscrizione al canale lo ricordo tutti quanti e attivando anche la campanellina così ricevi tutte le notifiche allora non in ultimo diciamo in ordine di importanza ricordo anche il sito web quinta dimensione letture punto it perché perché lavora insieme al canale sono sempre io ovviamente i contenuti insomma li metto sempre io sia qui in formato video e là sul sito in formato proprio da lettura da leggere perché è anche bello e anche rilassante molto spesso metto approfondimenti che iniziano qua e finiscono là oppure iniziano là e finiscono qua quindi insomma è un bel programma seguire il canale youtube e anche leggere insomma sul sito web leggete sempre anche la descrizione del video così chi vuol parlare con me lo già lo anticipo anche adesso deve andare sul sito ok per vedere i prodotti servizi che offro chi è interessato li può prendere direttamente dal sito poi vedete anche i tempi di ogni stesa la spiegazione del video che stiamo facendo allora in questo particolare video bellissimo in questo contenuto bellissimo sapete che vi metto sempre contenuti importanti di crescita e che faccio anche io ovviamente se no non avrebbe senso andare a fare il profeta e poi non fare no allora questo è un contenuto che anche io faccio appunto abbiamo già il codice sacro 777 dei miracoli che molti fanno e che ha sbloccato già moltissime persone tante situazioni andiamo ad aggiungere anche una preghiera proprio per richiedere i miracoli una preghiera bellissima veramente bella non c'è bisogno di ripetizione diciamo 21 giorni sette giorni insomma un mese tre mesi va fatta per un certo periodo quando si sente proprio con il cuore è questa preghiera per richiedere proprio un miracolo vi faccio vedere da dove viene che viene da un libro che vi ho già diciamo consigliato che è telos 4 le sette fiamme sacre sempre di aurelia luis jones che ha scritto anche i libri di telos che anche quelli insomma ve li ho consigliati vi ricordate nel video della fiamma viola di san germain abbiamo anche quello eccolo qui questo fa parte proprio di tutta la serie di telos questo è il numero 4 è l'ultimo mi raccomando leggeteli con calma chi ce l'ha perché non è insomma tutto proprio così veloce da fare si inizia da telos 1 quando ci si sente si passa al 2 quando ci si sente si passa al 3 questo è proprio l'apice bisognerebbe arrivarci dopo aver fatto un certo discorso personale al telos 4 è allora questa preghiera mi sono presa già qua il segnalibre tutto richiesta di miracoli chiedono un miracolo di guarigione nella nostra vita mi è sempre piaciuta molto questa e ve la consiglio vivamente adesso la recitiamo insieme un consiglio che vi do fatela per voi comunque sempre perché spesso mi chiedete si può fare per quello si può fare per quell'altro no perché la persona ci sono pochissimi decreti come il mantra della fiamma viola con l'esorcismo la protezione la purificazione per esempio sì ma sono pochi i casi anime in cui si può fare per un altro perché perché c'è il libero arbitrio non possiamo andare a interferire con le scelte dell'anima di qualcuno anche se noi in questa vita ce l'abbiamo a cuore quel qualcuno lo amiamo gli vogliamo un bene dell'anima ma non possiamo veramente non possiamo questa è la stessa cosa anche qui questa è una richiesta personale perché noi non possiamo sapere se l'altro desidera il miracolo o se quel miracolo va a sfasciare qualcosa che invece c'è già un percorso nella vita di quella persona quindi non possiamo metterci noi come fossimo no il tribunale carmico per esempio no quello che ci aspetta dopo dopo aver lasciato insomma questo questo corpo in questa vita no questa è per noi perché noi siamo qui coscientemente io decido di fare questo io decido di fare quell'altro io decido di cancellare che ne so per esempio vi metto anche il link del patto con le forze oscure la cancellazione quello è fondamentale tutti i giorni ve lo metto anche nelle schede non so se leggete le schede voi perché io le metto sempre le schede del video sono quelle con la i in alto a destra se cliccate su i vengono fuori dei contenuti che io vi consiglio vi posso anche mettere un link non solo video di youtube un link anche al mio sito dove c'è della cosa scritta da leggere quindi niente allora questo lo possiamo fare torniamo a noi solo per noi lo possiamo fare tre sei o nove volte ogni volta che lo facciamo cioè mi spiego non sono tre giorni sei giorni o nove giorni sono tre volte ogni volta che lo fai sei volte ogni volta che lo fai nove giorni nove volte diciamo ogni volta che lo fai non è che allora per esempio lo facciamo oggi lo facciamo tre volte se decidi domani lo puoi fare altre tre volte e dopo domani altre tre volte finché vuoi va bene oppure sei volte tipo oggi lo vuoi fare sei volte e domani che ne so lo fai tre volte cioè non è questo il problema però non basta una volta bisogna ripeterlo al minimo e tre adesso noi lo facciamo una volta insieme qua chi vuole lo può leggere sopra me oppure tranquillamente se lo trascrive se lo fa da solo chi ha il libro insomma se lo può trovare anzi vi dico la pagina chi è il libro è alla pagina 305 305 pagina 305 di telos 4 le sette fiamme sacre edizioni melchi sedec autrice aurelia louis jones allora come vedete qua ho il fiore della vita bellissimo con le nostre genesine perché sta qua oltre che ci piace qua con questa energia bellissima guardate qua quanta lemuria c'è col cristallo lemuriano e altri cristalli allora allora nonché il 528 hertz che adesso lo suoniamo facciamo un respiro suoniamo l'herz il nostro diapason e poi cominciamo potete scegliere più di una di queste genesine vedete voi quante queste sono ovviamente 7 1 2 3 4 5 6 7 ne scegliete una le lascio qui mentre recitiamo dopo vi tiro giù uno dei miei oracoli messaggi divini e vediamo che cosa deve arrivare che un oracolo insomma perfetto proprio per questo tipo di discorsi molto spirituali e anche questo è in descrizione chi gli piace anzi ringrazio tutti quelli che l'hanno acquistato che poi mi scrivono grazie veramente sono contenta e grazie allora allora intanto date un'occhiata a queste genesine ma ormai le conoscete qua da me queste genesine sono miei compagni amiche ormai nei nostri video molto spesso adesso facciamo prepariamo qua mettiamo questa qui un bel respiro io sono già pronta un bel respiro fatelo anche voi un bel respiro pancia in fuori durante l'inspirazione pancia che rientra durante l'espirazione buttate fuori con la bocca appena aperta un fiato proprio deve essere oddio se avete tanto di quel fiato potete farlo più forte l'espirazione però di solito mi raccomando molto morbida va bene quindi inspiriamo la pancia va fuori espiriamo la pancia rientra proviamo facciamo un respiro insieme all'espirazione allora partiamo con la nostra preghiera per la richiesta di un miracolo chiedere un miracolo di guarigione nella nostra vita nel nome della luce di dio che non viene mai meno accetto un miracolo di guarigione nella mia vita oggi rivendico un miracolo in ogni livello del mio essere rivendico un miracolo d'amore per la mia piena resurrezione amato dio padre madre fai risplendere il tuo miracolo di luce ora infondi il tuo miracolo di luce sulla terra ora chiedo un miracolo di guarigione dei maestri ascesi nel mio cuore nei miei chakra nel mio dna fate risplendere il miracolo della luce dei sette raggi fate risplendere la luce miracolosa dello spirito santo ovunque nel mio essere dove c'è bisogno di guarigione dichiaro che oggi sono un miracolo di dio sono un miracolo in azione reso manifesto sono una luce miracolosa e sfolgorante del grande sole centrale che mi fa risorgere la mia vera identità in dio risplendono i miracoli della luce attraverso di me amato io sono amato io sono amato io sono dicevo 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 d eccoci qua allora io l'ho tradotta io c'è qualche parolina che differenzia dal libro ma mi piaceva più così nel libro c'era un più qualche parola un po forzata però insomma è uguale diciamo il senso è quello non importa la virgola letterale o no allora lo trovate anche sul sul sito è chi vuole lo può anche leggere la chi vuole metto sempre tutto in descrizione leggete sotto la descrizione allora partiamo con le genesine vediamo il messaggio che deve arrivare e buon miracolo a tutti quanti perché quando affermate io sono un miracolo ora miracolo accade che messaggi dobbiamo dare oggi e le mettiamo qui chi ha scelto la genesina blu allora il messaggio per la genesina blu è mantieni la mente aperta chi cerca trova 155 bene qua ti è richiesto proprio l'apertura molto mentale mantieni mantieni quindi già ce l'hai cerca di mantenerla il più possibile aperta a ogni cosa non dare subito diciamo il giudizio cose buone cose male mantiene mente aperta sempre come mente chi cerca trova qui probabilmente c'è qualcosa da cercare perché devi trovare qualcosa qui è chiaro chi cerca trova c'è qualche informazione probabilmente genesina blu che ti deve arrivare mi sento proprio questo da dirti è qualche informazione che deve arrivare per te bene andiamo spediti oggi senza tanti ricami mantieni la mente aperta era la tua la togliamo e andiamo avanti genesina verde per la genesina verde mi viene di qua periodo di transizione lascia andare il passato e tutto quello che non ti serve più 225 vai avanti con coraggio qua genesina verde è un momento questa una transizione è obbligatoria farla la transizione perché se no se noi venissimo catapultati come come un non so un laser no una cosa veloce scoppieremmo la transizione serve per piano piano senza troppa forza né dolore passare attraverso un periodo di cambiamento però qui ti è richiesto anche lasciandare il passato tutto quello che non ti serve più vai avanti con coraggio si rivolge anche soprattutto a chi ha dei momenti di difficoltà in questo periodo molto forti con se stessa con se stesso e con gli altri qui ci vuole il coraggio proprio qui bisogna lasciare andare il passato mi rivolgo proprio a chi ancora sta impantanata o impantanato in qualcosa di vecchio basta vai avanti con coraggio il passato qui c'è da toglierlo è chiara la frase lettura numero due lettura vabbè genesina numero due verde io vado in fila tanto sono sette uno due tre quattro cinque sei l'ultima faremo la viola centrale che è la sette proseguiamo con la oro oro giallo eccolo qua oro giallo il messaggio per la oro giallo eccolo tutto il supporto e l'amore divino sono con te quanto mi piace 5 8 8 5 5 8 imminente e grande cambiamento a la genesina oro imminente grande cambiamento supporto e amore divino sono con te quindi già ti dicono che ce l'hai quindi c'è una certa connessione una certa vicinanza per te supporto e aiuto e l'amore divino è stupenda questa cosa e c'è un cambiamento anche a breve imminente ma poi anche grande non è un cambiamentino è un cambiamentone imminente grande cambiamento arriva genesa oro giallo oro arriva va bene qui c'è un supporto arriva e anche a breve a breve la tua vita cambia e genesina oro questo era il messaggio per te andiamo avanti la genesina arancione eccola qui il messaggio per l'arancione mi viene qua sotto già appena l'ho toccata mi è arrivato qua lascia andare dedicati a qualcosa che ti piace rilassati 666 pensieri fuori equilibrio vai dentro di te qua c'è da lasciare andare qualcosa siamo un po permeati da terza dimensione qua bassa egoica duale massiccia pesante sofferente oscura di tutto di più rilassati mi raccomando respirazione qui è molto importante per aiutarti ok questa cosa che ti dice no a lasciare andare andare dentro di te per ripristinare un equilibrio perché qua abbiamo pensieri fuori equilibrio dovresti fare qualcosa che ti piace tutti ce l'abbiamo qualcosa che ci piace non c'è nessuno che non gli piace niente che cos'è che ti piace gli animali camminare nel verde andare giù al mare non so stare in mezzo ai fiori andare a ballare sentire la musica muoversi la palestra fallo qua devi fare quello che ti piace e ti devi rilassare perché qua sappi che quando tu fai qualcosa che ti piace aumenti la tua energia positiva aumenti la vibrazione potrebbe essere anche solo star sul divano a sentire la musica che ne so ecco per esempio 528 hertz 432 hertz abbiamo tanti di quegli hertz l'imbarazzo della scelta abbiamo qua musica che ti piace non solo gli hertz ovviamente ma tutto quello che ti piace magari la musica classica la musica dei sette raggi fai qualcosa che ti piace qua c'è da lasciare andare e qui non è che va tanto bene c'è bisogno ancora di lasciare andare ancora abbiamo dei pensieri fuori equilibrio mi raccomando riprenditi e vai sulla strada quella lì dell'equilibrio è genesina arancione allora proseguiamo con la rossa ecco qui chi ha scelto la rossa genesina rossa braccialetto che mi batte qui sopra mi suona cioè guardate che roba mi suona pure il diapason col braccialetto allora genesina rossa bel respiro sempre eccolo o qua fai esercizio fisico esce all'aperto e respira è 19 19 no sorrido perché qua probabilmente sicuramente chi ci si ritrova già zompa su dalla sedia o insomma dove state non lo so sul divano fa esercizio fisico qua niente quasi sta troppo in casa qua c'è da muoversi ci rantrappiamo qui è come facciamo poi dopo ne va della nostra salute del nostro aspetto anche fisico anche se non è quello insomma che deve contare però dobbiamo star bene è accidenti cioè non è che perché uno è voglio dire è spirituale deve essere malconcio è come come era una volta vi ricordate i guru gli eremiti che diventavano 30 chili sulla montagna insomma barba capelli lunghi denutriti senza denti cioè sappiamo che san germello ha detto chiaro è la nuova era l'età del loro non è per niente ma manco da lontano una cosa del genere abbondanza per tutti abbondanza di felicità di soldi di lavoro di felicità di scambio di amore di tutto non esiste più quelle remita lì eh mi raccomando bada al tuo corpo amati fai del bene al tuo corpo se c'è qualcosa da sistemare nel tuo corpo lo devi sistemare perché anche quello ti come dire non puoi essere in buone energie se c'è un corpo comunque scarsetto innanzitutto vai a prendere dell'aria qua esce all'aperto guardate che roba vedi se ne va pure la carta qua e vola esce all'aperto e respira 19 19 questi sono numeri comunque associati sempre al significato della carta fai esercizio mi raccomando respirazione respirazione uscire all'aperto mi raccomando genesina rossa accorato proprio è esci fuori allora proseguiamo con la genesina argento guardate ma saranno belle ste cose qui tante volte faccio così ce l'ho faccio così me le metto proprio no cioè faccio l'anello geneso genesona eccolo allora per la genesina sentite come suona qua col bracciale allora qui eccola questa qua vediamo questa qua cosa c'era ero io quel soffio di vento che hai sentito 11 22 numeri maestri molto importanti chiedi aiuto agli angeli allora qua puoi chiedere puoi fare richieste è genesina argento qui chi ha sentito qualcosa è una conferma di un messaggio se hai sentito poco fa ieri l'altro ieri la settimana scorsa insomma un qualcosa che ti è venuto in mente quando ho detto questo quando ho letto questo quello che ti è venuto è quello ero io quel soffio di vento che hai sentito si era era qualcuno era qualcuno era qualcuno poteva essere anche un angelo poteva essere un tuo defunto poteva essere una guida poteva essere un galattico chiede aiuta agli angeli comunque sia chiedi quando hai bisogno perché hanno ascoltato qui c'è stato un c'è stato una manifestazione un segnale un messaggio un vento uno spostamento un tocco sul viso leggero i capelli che ti sembrano elettrici qualcosa che si muove non lo so qualcuno qui ha percepito e questa carta gli è venuta a dire sì era così non ti sei ammattita o ammattito ero io ero io bene che bella conferma genesina argento andiamo alla penultima allora la blu no che dico è l'ultima scusate abbiamo fatto uno due tre quattro cinque sei e sette andava ancora in senso orario vedete allora l'ultima la viola l'ultima eccoci genesina viola eccola viola con viola sta di qua per la viola lo so sta per arrivarti del denaro 888 abbiamo il viola pure di qua buon auspicio o qui c'è poco da commentare genesina viola san germain con l'abbondanza nuova età dell'oro non si è sbagliato qua è arrivato proprio questo buon auspicio sta per arrivarti del denaro c'ho sto vizio vedete come ho detto prima io queste me le incastro sempre allora c'è poco da dire c'è questi soldi ci sono questi soldi arriva allora non ti preoccupare il come il dove perché come mai ma da dove che neanche sembra bene quando dite neanche sembra accade il miracolo non a caso stiamo su un video in cui parliamo di miracoli genesina viola non ti preoccupare del come il come ci pensa la quinta dimensione o su ci pensano gli esseri di luce ci pensa l'universo tu fai chiedi pure il miracolo benissimo anche se fai il codice sacro 777 proprio per sbloccare il miracolo ma anche la corata e dolcissima preghiera che viene dal nostro cuore è ascoltata come la preghiera che abbiamo fatto molto bene quindi qui ci sono è questo denaro c'è genesina viola eccoci qua arriva bene spero che comunque sia un qualcosa che aspettavi e che risuona comunque con te cari anime mi raccomando è metto nella descrizione del video ma anche nel sito web comunque il contenuto di oggi la preghiera proprio del miracolo condividete con chi magari non so vi capisce perché non è che siccome non la possiamo fare noi al posto di un altro speriamo che voi avviate comunque persone che possano comprendere anche l'importanza di tutte queste cose anime questo è un altro contenuto per voi per aiutarvi nella vostra crescita spirituale personale per aiutarci a vandare sempre più vicino ai nostri amanti esseri di luce maestre ascesi eccetera eccetera vi saluto anime vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie grazie